Il libro che racconta particolari inediti è una guerra spietata che la drangheta affronta con fiumi di dollari in tutto il mondo sui mercati finanziari che più contano, investendo proventi illecitamente ricavati dal traffico internazionale della droga. Una sorta di romanzo criminale che parte dalla Calabria, dai paesi più sperduti della Locride, per giungere nei paradisi fiscali più misteriosi del pianeta, dove i soldi della drangheta vengono depositati e reinvestiti in operazioni legali. Il senso di questo libro è quello di ripercorrere le ricchezze dell'andrangheta, cioè come l'andrangheta è diventata ricca, ricostruendo dalla fine dell'Ottocento fino agli anni Settanta era una mafia agropastorale che si interessava di guardianie, di abbigieato, di trasporto di inerti, lavorazione del cacciestruzzo. Poi negli anni Settanta c'è stato il boom dei sequestri di persona e poi calcoliamo che in quel periodo ogni anno venivano gestiti mediamente 20 sequestri da parte dell'andrangheta e quindi con quell'enorme mole di denaro, oltre a costruirsi ognuno la villa, sono serviti e quei soldi sono serviti per incominciare a mandare dei broker, incominciare a mandare degli uomini a specializzarsi, a comprare cocaina al prezzo più basso. Una nuova testimonianza di coraggio civile da parte di Gratteri, che da 30 anni vive una vita blindata, e da parte del suo amico più caro, Antonio Nicaso, che gli sta vicino esaminando sentenze e aggiornandosi sempre su tutto ciò che riguarda le varie mafie. Questo libro nasce dalla voglia di capire uno dei passaggi fondamentali dell'andrangheta, quello appunto del riciclaggio del denaro sporco. L'andrangheta ha bisogno di giustificare la ricchezza, vive sopra una montagna di denaro proveniente in gran parte dal traffico internazionale di cocaina ed ha bisogno di riciclare questo denaro un po' dappertutto, in parte minore in Calabria ma soprattutto lontano dalla Calabria. Lo fa grazie alle collusioni, alle contiguità di professionisti di ogni genere che sono quelli che fisicamente riciclano il denaro dell'andrangheta. Purtroppo c'è una domanda di Andrangheta che cresce non soltanto in Italia ma nel mondo. Ci sono politici, ci sono professionisti che vanno alla ricerca dei voti e dei soldi degli andranghetisti. Dalla lettura di questo saggio si intuisce bene che combattere contro il riciclaggio su scala planetaria diventa ogni giorno più faticoso. La differenza dei sistemi giuridici, la mancanza di reati associativi e la difficoltà di globalizzare l'azione di contrasto favoriscono tutte le mafie che invece riescono sempre più a collaborare a livello internazionale. ...ai ragazzi a spiegare la non convenienza delinquere proprio perché è una ricetta di lungo periodo, una certa ricetta faticosa dove i risultati si vedono dopo anni. ...